Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Arsenio, un gruppo di malviventi infatti riuscito a mettere a segno due furti in abitazione in due zone diverse del paese, mentre ha tentato di entrare in un'altra abitazione ma la presenza della proprietaria li ha fatti desistere nel loro intento. Monili in oro e denaro, è questo il cospicuo bottino che i ladri sono riusciti a portare via. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina. È allarme in paese visto anche l'orario scelto per agire quando ancora molte attività erano aperte e c'era ancora movimento di mezzi e di persone. Sono diversi furti e tentati furti messi a segno negli ultimi mesi in tutto il comprensorio del Vallo di Diano.